Venezia con luci e riflessi al tramonto sul Canal Grande Benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò delle immagini molto belle che mi ha dato un collega di lavoro, Grazie Ale, che ha ripreso 5 minuti in barca nel Canal Grande al tramonto è riuscito a riprendere i riflessi delle luci dei palazzi sull'acqua all'imbrunire che crea un'atmosfera particolare quasi magica spero vi piaccia come è piaciuto a me Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!